Nella seconda parte di Atomic Habits scendiamo negli esempi, gli esempi dei triggers. Mettiamo che tu ogni volta che esci con gli amici finisci sempre a bere, no? L'uscita con gli amici è il trigger stesso, quindi tu non sei in grado di uscire con gli amici senza finire a bere. Ora, se tu passi da questa cosa, da non sei in grado di uscire con gli amici senza finire a bere, a non sei in grado di stare a casa da solo senza bere, è il passaggio che ti rende un alcolista. Ma qual è il trigger? Il primo trigger è semi-alcolismo, perché che non lo si voglia chiamare così, ma che tu non possa fare un'uscita dove esci con persone senza bere o spesso arrivare a stare male, è paesemente alcolismo. Ma questo a cosa è dato? È dato dal trigger che ti attiva, cioè tu non sai divertirti senza bere. Il trigger che tu devi andare ad affrontare in questo caso è uscire con gli amici e volermi divertire e quindi bere. Quindi da un lato o non esci con gli amici, ma non è una soluzione definitiva, o ti devi mettere in una condizione di essere in grado di bere, cioè di essere in grado di bere qualcos'altro, di spostare quello che è l'interesse verso l'alcol in qualcos'altro. E questa è la parte di come si gestisce una cattiva abitudine. Perché ve l'ho già detto, è difficilissimo, se non impossibile, sostituire una cattiva abitudine con niente. Le cattive abitudini si sostituiscono con abitudini neutre o buone. Ti faccio un esempio. Esci con gli amici, bevi un energy drink. Ti dirai, l'energy drink non è il massimo. E sarò d'accordo con te, ma sempre meglio un'energy drink che bere. Passiamo ora a un altro esempio. Passiamo ora all'esempio di Netflix. Ogni volta che ti siedi sul divano, che ti sdrai sul divano, finisci sempre a vedere un film su Netflix. Ora, da un lato capiamo che il trigger è sdraiarsi sul divano. Ti sdrai sul divano, accendi la tv, metti Netflix. Tutto lineare. Devi essere in grado di non farlo con questo modo. Devi essere in grado di sdraiarsi sul divano e fare altro. Devi essere in grado di sdraiarsi sul divano e aprire un libro. Mettere un audiolibro. Cioè, te la devi gestire. Perché se non te la gestisci, questa cosa, con delle abitudini migliori, entri nella condizione, come abbiamo visto, di essere schiavo di questa abitudine. Le abitudini schiavizzano gli uomini deboli. Le abitudini sono il metodo più veloce che c'è per rendervi schiavi di qualcosa. E questo perché vi è rilascio di dopamina. La dopamina è la nostra droga, è la droga della felicità. È quella sostanza che ci rende felici, che il nostro cervello rilascia. Ora, la dopamina. Perché è pericolosa in un mondo moderno come questo? È pericolosa perché vi sono modi per averla gratuitamente. Ma come abbiamo visto, tutto ciò che viene dato senza fatica, tutto ciò che viene dato in maniera easy, finisce per rovinare. È come se fosse un sensore sballato. Perché in natura, la dopamina, quando noi ci siamo cresciuti come cacciatori e raccoglitori, quando noi passavamo le nostre giornate a rincorrere lepri e faticare come dei bastardi per mettere la cena in tavola, quando noi arrivavamo a prenderci dei frutti succosi piuttosto che qualsiasi altra cosa di ottimo sapore, cioè ragazzi, il nostro cervello si premiava in una maniera incredibile. Oggi, qualsiasi cretino, con un euro, si può andare a prendere una merendina di cibo processato dove dentro quella merendina ci sono 40 ingredienti da mezzo mondo che sono totalmente impossibili per il nostro cervello a sintetizzare. Ma voi pensate che in una merendina hai magari il grano che viene da una parte del mondo, hai magari le arachidi che vengono da tutt'altra parte del mondo, hai il caramello fatto con delle canne da zucchero, se viene fatto con delle canne da zucchero che vengono dall'altra parte del mondo ancora, o da barbabietole da zucchero che vengono dall'altra parte del mondo, cioè l'industrializzazione ha permesso alle persone di consumare dei cibi che non stanno in cielo e in terra, ma in una barretta di merendina c'è più roba e più viaggi lì dentro che tutti quelli che faranno nella vita intera una personale di 10.000 anni fa. E questo crea una situazione paradossale, che il nostro corpo non essendo nato per gestire tutti questi trigger di dopamina, ci rende schiavi. In natura non c'era mica l'iPhone che te aprivi su Instagram e vedevi gratuitamente in maniera istantanea i culi delle tue coetane, così. In natura per vedere un culo dovevi essere uno che era arrivato a guadagnarsi la possibilità di riprodursi, perché i tesori miei in natura non si riproducevano mica tutti. I mammiferi come specie si sono evoluti proprio seguendo la condizione che i migliori si riproducono e i gamma e i beta non si riproducono, o si riproducono molto poco di nascosto rischiando la vita. Vi rendete conto di questa cosa? Quanto cambia il fatto che nella selezione naturale il vedere una donna era già di per sé una grande cosa, era già un premio. Oggi qualsiasi maschietto in età adolescenziale può vedere tutti i porno che vuole. È oggettivamente denaturante, perché semplifica quello che è la vita di questa persona che invece dovrebbe essere affamato di andare a prendersela. Quindi cosa abbiamo capito? Che la dopamina bisogna starci attenti, perché la dopamina è pericolosissima. Ti spinge a fare cose illogiche. È la stessa molecola alla base di tutti quegli sbrocchi che fanno le persone drogate proprio per ricercare quella dopamina lì, perché non sono più in grado di prendersela dalla vita e quindi devono prenderla imbrogliando. E questo è il punto, ragazzi. E si raccontano cazzate su cosa stanno facendo. Ma per farvi capire l'importanza dei trigger e delle persone che avete intorno, voi prendete un bambino, qualunque, mettetevi al cellulare vicino a lui e inevitabilmente richiederà il vostro cellulare. Inevitabilmente vuole stare davanti a quella cosa che luccica e che sembra tanto divertente. Mettetevi a leggere o mettetevi a giocare a un gioco da tavola, mettetevi a camminare, a fare qualsiasi attività davanti sempre al bambino che li possa vedere che cazzo fate e vi verrà dietro. Perché noi, come hanno scritto 500 libri, ve lo ricordo, siamo la media delle 5 persone che frequentiamo. Perché le persone si lasciano influenzare molto di più di quello che voi pensate. Le persone si lasciano influenzare un'esagerazione, le persone sono convinte di non lasciarsi mai influenzare. Quando in realtà l'influenza è inevitabile. E questo è il punto. Arriviamo ora alla spasmodica ricerca dell'essere umano del parere del gruppo. Ma perché il parere del gruppo è così importante o è stato così importante nella nostra evoluzione? Perché se tu ti sei evoluto in un paese dove più o meno conosci tutti, diciamo un centinaio di persone, tu ti sei evoluto sapendo che devi seguire ciò che viene detto da questo centinaio di persone. Perché se questo centinaio di persone dice che in quel ruscello è pericoloso andare perché ha visto gente morire e tu in quel ruscello ci vai e scopri che i sassi che sono nell'uscello non erano sassi ma erano coccodrilli, loro ti avevano formato per evitare questo problema. Non sotto questa forma, ma a livello evolutivo, se 50 persone scappano da una direzione, difficilmente a livello evolutivo ti sei imbattuto in una puntata di Candy Camera, molto probabilmente a livello evolutivo ti sei imbattuto in qualche stracazzo di grosso animale veramente incazzato e le persone scappano a giusta ragione. Quindi questo errore che ha il nostro software, ovvero il fatto che non riesce a pensare in maniera totalmente indistinta dagli altri, ma si lascia inevitabilmente influenzare dai voti altrui, è realmente una cosa inevitabile e però può essere utilizzata a nostro vantaggio. Cioè dobbiamo diventare dei maestri nel far sì che le persone diano al nostro business degli ottimi voti su quei lenti di controllo che spingono poi le persone ad acquistare il vostro prodotto, perché altri lo hanno detto. Quando vi fanno le pubblicità di dentifrice e vi dicono consigliato da mille dentisti in tutta Italia, realmente a voi di quel dentifricio che cazzo vi cambia? Assolutamente niente. Ma questa riprova sociale vi facilita nel vendere questo prodotto, cioè nel vendere il dentifricio. Anche che tutti i dentifrici sembrano consigliati a tutti i dentisti d'Italia, ma questa è un'altra storia. Perché evolutivamente la nostra natura è quella di seguire il gruppo e dobbiamo saperlo perché dobbiamo creare quel movimento che vada oltre la singola persona ma spinga un gruppo di persone ad agire. E nel mondo del palestero questo è un segreto di pulcinella, perché i migliori li sanno, ma lo sanno che devi spostare gruppi, non persone, per fare veramente tanti abbonati. Ora arriviamo alle tecniche di autosuggestione. Se tu vuoi spingere il tuo corpo a superare le cose che odia devi metterci... no, il famoso zuccherino per indorare la pillola. Cosa significa? Ami guardare Netflix? Perfetto. Mettiti Netflix su un tapirulan. Tu potrai vedere Netflix finché camminerai su quel tapirulan. Oppure, ami vedere Netflix? Mettilo sulla sigletta. Mettiti in condizione di impararci qualcosa a Netflix o di far qualcosa nel tramite. Ami Netflix, ma non sai perfettamente ascoltare in inglese? Perfetto. Mettiti sotto il titolo in inglese e ascoltalo in inglese. Il concetto è che dovete legare lo sforzo alla ricompensa e mettere una parte positiva in questa negatività. Altrimenti, non troverete mai la motivazione per farlo e io vi consiglio anche di partire a piccoli step. Ovvero, andare a camminare odioso? Non ti piace? Fare cardio? Perfetto. Fanne poco. Perfetto. Parti con 5 minuti. Finiti i 5 minuti, ne fai altri. Ma vai di 5 minuti in 5 minuti. Non pensare subito all'ora che vuoi fare. Fai in modo che tu possa fare i tuoi 12 intervalli a 5 minuti in ogni intervallo concentrandoti di andare al meglio possibile, il più veloce possibile per quei 5 minuti. Io, come vi ho detto, lo sto facendo quotidianamente nei miei allenamenti. Sto cambiando il fatto che non faccio più 12 serie. Cioè 12 colpi per serie. O 10, quelli che sono. Li divido in 3-4 mini serie dove mi devo concentrare esclusivamente su dare il massimo in quelle mini serie. E questo si spinge a dare molto di più di quello che davi prima. Perché prima ti concentravi ad arrivare a 12 colpi, perfetto. I primi li facevi con leggerezza, senza dare la giusta esecuzione, senza far lavorare il muscolo per ogni peso che sollevi. Voglio tornare ora sulla mentalità del gruppo e su quanto è importante nella vita di tutti noi, senza saperlo. Le centinaia di miliardi che valgono Booking, TripAdvisor e tutti i loro competitor si basa proprio su questo. Sul fatto di quanto le persone apprezzino vedere altre persone e sapere cosa ne pensano. Quindi capire cosa ne pensano altre persone. Questo è ciò che spinge le persone a sovrautilizzare, quindi a sovravalutare poi, questi servizi. Quindi, perché nella nostra natura è così importante? Tanto da rendere Booking dei leader mondiali, tanto da rendere TripAdvisor società da centinaia di miliardi, se le sommiamo. Il punto è questo, che siamo naturalmente predisposti a seguire il gruppo. E questo, perché in natura era safe, era come funzionava. Ma, devi iniziare ad applicare nella tua azienda questo valore. Cioè, come puoi chiedere, avere recensioni, fare in modo di registrare testimonianze, metterti nella condizione di usare tutto questo in una leva positiva? Questo è ciò che ti devi preoccupare, metterti nella condizione di utilizzare tutto questo come leva positiva. Questa lezione, poi, è una delle mie preferite. La ripetizione è la chiave del successo. La ripetizione non parla di tempo. Io odio con tutto me stesso la gente che dice Alex, ma come puoi tu insegnarmi a fare questa cosa nel mio settore che è 30 anni che sono nel tuo settore? Bene, è 30 anni che sei nel settore fitness. Dov'è la tua catena con più di 10 palestre? 11, al momento che vi parlo. Non c'è. E lo so che non c'è. E sai perché lo so che non c'è? Perché non hai ripetutamente fatto e migliorato qualcosa. Io non è tanto tempo che sono dentro questi business, ma ripeto in continuazione questi business così da migliorarli continuamente. Così da mettermi continuamente nella condizione di migliorarli. Questo dovete ragionare essere realmente un game changer totale perché vi mette nella condizione di cambiare per sempre il modo di come vedete un business perché non è quanti anni ma è quanti tentativi quanti miglioramenti quante volte ti sei messo e hai migliorato ciò che fai questo fa la differenza non è quanti anni gli anni non contano un cazzo quando uno dice che è 40 anni in un settore e non ha ancora raggiunto risultati eccelsi vi sta dicendo che è 40 anni in un settore a fare il mediocre io quando ho aperto la mia prima attività a 26 anni avevo la fila di persone davanti che mi volevano insegnare il mestiere avevo la fila di gente che mi voleva insegnare come si facevano palestre avevo la fila di persone che volevano venire a lavorare in palestra ma non per lavorare dentro il mio progetto ma per insegnarmi io ho detto sempre a tutta una singola cosa no io ho un progetto sbaglierò migliorerò sbaglierò ancora e continuerò a migliorare ma quello che io so vedendo ciò che avete creato perché io le persone valuto da ciò che hanno creato che ciò che avete creato a me non soddisfa quindi io non posso imparare da persone il quale presente non mi soddisfa capite? e questo modo di pensare è un game changer totale perché ti mette a condizione di capire che sì gli errori ci saranno sì hai meno tempo di loro in questo settore ma tu a differenza loro in questo settore continuerai 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 vedi te lo dicevo 15 minuti volano e non riesci a trasmettere minimamente tutto il valore di questo libro hai almeno altri 45 minuti di valore applicato decifrato sul mercato italiano e te lo vuoi perdere? lo so lo so non ti fidi ancora ma sai cosa ho fatto? 3 giorni di prova gratuita su tutta l'app senza limiti capito bene ti basta cliccare qua sotto e per 3 giorni potrai provare gratuitamente l'app quindi cos'hai da perdere? clicca qui e ti aspetto di là grazie a tutti